E' terminata con una sconfitta, ma per certi versi non poteva essere diversamente la stagione della tonno caldipo Vibo Valencia, troppo forte del resto Civitanova per la compagine calabrese, i padroni di casa si impongono 3-0 in un match combattuto nei primi due set. Anzi, nel primo parziale era stata proprio Vibo a condurre i giochi, riuscendo a ottenere un buon margine a metà set. Vantaggio che però pian piano si è assottigliato e alla fine è stata Civitanova a imporsi 28-26. Nel secondo invece sono stati padroni di casa ad andare avanti, non la squadra calabrese, non ha ceduto ed è rimasta a contatto. Risultato finale 25-22, nel terzo però Vibo ha ceduto e Civitanova non ha avuto problemi a chiudere 25-15. Un match che per la tonno caldipo comunque non aveva importanza per la classifica, i vibonesi infatti hanno ottenuto la salvezza la scorsa settimana e hanno chiuso così il campionato al terzo ultimo posto. La salvezza era certamente l'obiettivo ed è stato centrato, ma l'impressione è che questa squadra avrebbe potuto ottenere qualcosa in più. Da oggi però inutile guardare al passato, fra le consuete partenze e nuovi arrivi, bisognerà guardare al futuro e cercare di preparare al meglio la prossima stagione.